La giostra del Saracino di Arezzo, il palio della balestra di Sansepolcro e il gioco del ponte di Pisa. Così alla Casa Museo di Ivan Bruschi si raccontano i tornei di Toscana. La mostra si avvale di importantissimi prestiti delle gallerie degli Uffizi, del Museo Nazionale del Bargello e del Museo Stibbert. Questo nel quadro delle gallerie d'Italia, gestite da Intesa San Paolo. E quindi è un insieme virtuoso che colloca la Fondazione Ivan Bruschi, il Museo dell'Antiquariato Ivan Bruschi, nell'ambito delle istituzioni nazionali. L'opera più iconica è il cinquecentesco buratto in prestito dal Museo Nazionale del Bargello. L'immagine mostra il cavaliere bardato per un carosello di Stefano della Bella, arriva invece dalla Galleria degli Uffizi. Armi e armature arrivano dal Museo Stibbert di Firenze. Alle sue spalle c'è la disfida al re delle Indie, che prima sentivo lei diceva che è un po' diverso rispetto a quello che oggi si recita in piazza. Sì, in questa lettera di sfida noi notiamo una sorta di ironia che l'invittissimo buratto re dell'Indie mette nella sua sfida verso i giostratori di Arezzo. Nella lettera che viene letta oggi c'è un tono più marziale, più una sfida alla guerra che viene proposta dal buratto. Qui invece notiamo un tono più canzonatorio, un po' come una sottile rivendicazione non solo del proprio valore in battaglia, ma anche nel vincere i cuori delle dame aretine. Quindi un'ulteriore sfida ai cavalieri d'Arezzo. Le riflessioni che pone questa mostra sulle giostre sono molto interessanti. L'identità, il senso d'appartenenza che è tipico della Toscana, dell'Italia, dei comuni, ma tipicamente è proprio un senso proprio nostro. Un'esposizione che fa parte del programma Terre degli Uffizi, ideato e realizzato dalle Gallerie degli Uffizi e dalla Fondazione CRF Firenze. Investendo in ciò che ha a che fare con le nostre radici, con la tradizione, è un impegno che è mantenuto concretamente, si vede ed è misurabile. Credo che il percorso fatto in questi anni, le iniziative congiunte, il lavoro insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, non possano essere che forieri di altre iniziative e di grandi successi per gli anni a venire.